Campi di fiori a perdita d'occhio, scorci d'Italia fra salsedini da grumi, legni lontani, spezie e note aromatiche che raccontano attimo dopo attimo la natura. Bene, dimenticatevi tutto questo perché le due fragranze di cui voglio parlarvi oggi sono l'esatto opposto. Non contengono gli essenziali naturali, non cercano di imitare il mondo che conosciamo e non sono i soliti profumi. Se per caso non l'aveste ancora capito, le fragranze protagonisti di questo episodio sono Note Parfum di Juliette Zagan, sia nella versione classica, bianca, sia in quella più moderna, che porta il nome, tutt'altro che modesto, ma meritatissimo, di Superdose. È ormai una decina d'anni che si sente parlare di profumeria molecolare, anche se in maniera più velata le note sintetiche stravolgono e danno personalità alle fragranze da più di 50. Prima si sentiva parlare spesso di Edione, o molecola gelsominata fresca, introdotto da Messier Guerlain più di 60 anni fa e resa celebre da Dior nel suo Immortale e Sauvage del 1966. Profumo fra gli altri che usava mio padre. Ma il vero sdoganamento delle molecole sintetiche è avvenuto soprattutto grazie al lavoro di Ghezzachon e alla sua enorme lungimiranza. Il vero punto di rottura si è infatti con la prima uscita di Centric Molecule, creato l'anno del nostro mondiale, ovvero il 2006. Da lì l'explore dei profumi molecolari è stato continuo e ha convinto Romano Ricci a lanciare nel 2010 il profumo che l'avrebbe reso celebre, Note Parfum. E già qui troviamo un livello di marketing più strutturato rispetto ai primi Centric. Ma come si può spiegare questo fenomeno e come ha fatto ad avere tutto questo successo? Stiamo pur sempre parlando di fragranze che non si sentono. Se stiamo a credere a tutto quello che è stato detto sulle fragranze molecolari non ne usciamo più. Anche perché, fidatevi, più un'indaga, più la cosa risulta poco chiara e molto più complessa di quello che sembra. Iniziamo a fare chiarezza su alcuni punti. Punto 1 Le fragranze molecolari sono composte da ferormoni e questo è il motivo per cui non si passano osservati. Come mi chiedevano un tempo, voglio un profumo che faccia fermare le donne per strada. Ecco, diciamo che questa storia, grazie al cielo, si sente sempre meno. Perché nelle fragranze molecolari non ci sono né ferormoni né sostanze afrodisiache. Si tratta infatti di molecole finte ed è questo il motivo per cui chi le sente per la prima volta ne è immediatamente attratto. Immaginate di andare in un luogo dove non siete mai stati. Percepirete degli odori che non avete mai usato prima e ogni volta che risentirete quegli odori penserete a quel luogo. Ecco, con le fragranze molecolari vale lo stesso discorso, solo che non c'è bisogno di andare in posti lontani e non c'è neanche bisogno di un ricordo visivo, ma basta l'impatto emozionale che queste fragranze hanno sul nostro naso. Punto 2. Le fragranze molecolari vanno messe su pelle perché hanno bisogno del calore umano per evolvere. Inizialmente ammetto di esserci caduto anche io in questo tranello. Ero il primo, su tutti, a essere convinto che la pelle modificasse drasticamente queste fragranze, molto di più di quelle composte da ingredienti naturali, e che solo così si potesse dare vita al profumo. Poi però un giorno, vaporizzando arrogantemente, un po' così, note parfum su una felpa, mi sono accorto che dopo due giorni la felpa era ancora profumatissima. Il che fa tornare tutti i nodi al pettine. Perché tantissime delle persone che si sono avvicinate alla profumeria molecolare l'hanno fatta perché il negozio di abbigliamento di fiducia annegava letteralmente i vestiti in questi odori sintetici, completamente nuovi e completamente ipnotici, obbligando in un certo senso a comprare sia la giacca, la camicia o il maglione che sia, ma soprattutto anche il profumo. E ricordiamoci che stiamo sempre parlando di molecole che sono state create per esaltare degli odori a cui vengono associate. Per cui l'abito che sa di ammorbidente diventerà più intenso, più ricco, più impattante. Tuttavia, una maglietta sudata, se vaporizzata con note parfum, vedrà il proprio olezzo essere pompato ed esaltato. Bello saperlo, ma sconsiglio di farlo. Come diceva Ciccio Valenti quando commentava il wrestling, don't try this at home. Punto 3. Le fragranze molecolari sono pensate per quelle persone a cui non piace il profumo. E questa, signori, è una citazione che sta a metà fra Ghezza Schoen e Romano Ricci, per cui non si contesta. Però in cuor mio, questa cosa mi fa molto ridere, pensando che sia l'Ambroxan che l'Iso e Super sono presenti in tantissimi profumi, anche se non dichiarati, per dare corpo e pienezza alle fragranze. Ma prese singolarmente, queste molecole vanno e vengono, molto più di una nota naturale, e spesso chi le porta non le sente. Ma non come i profumi più classici, che non sentiamo intensi perché il nostro cervello si è abituato. È proprio come se l'odore si fermasse e ripartisse qualche ora dopo, senza una precisa regola, e sempre con una buona intensità. Mi hanno detto che è causa della dimensione delle molecole sintetiche, che otturano alcuni recettori olfattivi. Ma è una frase che prenderei molto con le pinze, e che devo ancora verificare. Ciò che è certo è che non siamo davanti al solito profumo. Anche perché un'altra caratteristica importante sia di Not che di Super è che sono perfetti per fare layering, o detta all'italiana sovrapposizione di fragranze, in quanto entrambi fungono da amplificatori per gli altri odori. Il tema del layering può essere inteso o come un gioco, e quindi si lascia molto spazio al gusto personale, alla sperimentazione, oppure può essere approcciato in maniera più scientifica, cercando di associare fragranze con Not in comune per ottenere nuove e differenti sfaccettature. Ma attenzione che per fare questo serve molta conoscenza delle fragranze, e soprattutto un ottimo naso. Il vantaggio di queste due fragranze molecolari è che questo discorso è drasticamente semplificato. Proprio perché queste molecole sintetiche sono state create per dare pienezza, corpo, durata, ed una maggiore intensità agli altri odori, che voi usiate un fiore, un legno, o una nota di bergamotto, mischiarle con Not o Super sarà molto più facile, perché è come se avessimo già la nostra base, il nostro Not o il nostro Super, su cui andiamo poi a vaporizzare il profumo. Fra l'altro, se uno si andasse a leggere tutte le piramidi delle fragranze di Juliet, noterebbe come Ambroxan, Cetalox, Iso e Super sono quasi sempre presenti. Ultimo in ordine cronologico, l'Ambroxan nella piramide olfattiva di Pering. Come detto prima, Romano Ricci però ha potuto camminare su un terreno gialla stricato da qualcun altro, e ciò gli ha permesso di concentrarsi molto di più sulla comunicazione. Con il lancio di Not e Parfum, i temi toccati sono dei più vari. Si parla di persone allergiche, di celiaci, e come detto prima, di persone che non amano i profumi. Senza considerare poi il nome e il packaging, tutto bianco e poi Not e Parfum, che attirano subito l'attenzione tanto dell'appassionato di profumeria, quanto del curioso che entra in una boutique per perdere tempo. Ma di cosa sa? E a chi può piacere Not e Parfum? Perché sì, è bello parlare di Ambrox, Ancetalox, Iso e Super e chi più ne ha più ne metta, ma nella sostanza di cosa sanno? A questo proposito, ho un piccolo aneddoto super esclusivo che mi è stato raccontato proprio da chi Romano Ricci lo conosce di persona. Quando Not e Parfum fu presentato agli operatori della profumeria artistica, parliamo 2008-2009, molti di loro si rifiutarono di venderla. Da negozianti, i distributori furono tantissimi a pensare, no, ma su Moiette questa cosa non sa di niente, bah, c'è un lotto di factice, oppure questa è d'acqua, fino ad arrivare a chiedere il riso della merce, perché come si vende un profumo che non si sente? Ma molto spesso, non è tutto chiaro dall'inizio, ed oggi, a circa 10 anni di distanza, Not e Parfum è una delle fragranze più celebri e più richieste di tutta la profumeria artistica. Riprendendo però una delle critiche di allora, come posso raccontarvi questa fragranza? Visto che è un odore finto, è inutile che vi parvi qualcosa di naturale. Ve lo potrei descrivere come leggermente pudré, avvolgente, ma non invadente come certe ambre, senza genere, ma se proprio devo scegliere, la sensazione di morbido e di pulito mi fa pensare più a una donna. Detta così, questa descrizione potrebbe essere usata per tantissime fragranze che non hanno l'originalità di Not e Parfum. Anche il discorso della coccola, dell'abbraccio, dopo un po' è qualcosa di già sentito, che può valere anche per un qualsiasi fiorito polveroso con due punte di vaniglia nel fondo. Per cui vorrei provare a raccontarvelo con un'immagine diversa, piuttosto che cercarne di inquadrare l'impatto rifattivo. C'è il chiaro rischio di confondervi ulteriormente, ma voglio provarci lo stesso. Io ho la fortuna di svegliarmi tardi, quando la mia ragazza è già uscita di casa. E quando mi sveglio, nel letto è rimasto il suo odore, misto al profumo di ammorbimento delle lenzuola, delle creme che lei usa la notte, oltre a quel classico odore di notte che non è definibile come profumo. Ecco, appena sveglio, quell'odore mi fa pensare a lei, mi fa stare bene e mi aiuta ad iniziare la giornata sorridendo. Anche se non è un odore ben definito e cambia giorno per giorno, ha sempre quella sensazione un po' cosi, coccolosa, di benessere, di conforto che è sempre presente. Bene, questa stessa sensazione di calore, quasi di affetto, che cambia, ma resta sempre la stessa, io la ritrovo in note parfum. Esagero. Prendete due gemelli identici e vestiteli allo stesso modo. Ad uno mettete note parfum, all'altro mettete un qualsiasi altro profumo. Per quanto mi riguarda, quello di due che porta note parfum mi sperrà più simpatia, lo percepirei più umano, più empatico. Non saprei dirvi cosa innesca nel nostro cervello quando incontriamo queste note nuove, ma, mi vergogno quasi a dirlo, ma la sensazione è sapere di buono. Perché scegliere note parfum in versione classica? Senza ripetere cose già dette, mi cimenterò in un paragone letterario. Prendete il profumo di Suskind, il libro perché nel film il protagonista sembra solo un pazzo serial killer. Ora, cercate di ricordare come lui reagisce all'odore delle ragazze dai capelli rossi. Ne è stasiato. Apparentemente non ne capisce il perché, ma quell'odore angelico nella sua testa è in grado, se amplificato, di mettere in ginocchio il mondo, che alla fine è un modo più elegante, più fine, per dire che sta di buono. Dopo quasi un decennio, otto anni per la precisione, Romano Ricci decide di continuare il filone di note parfum introducendo la mist corpo capelli, una candela ed una crema a mani. Ma la vera novità è una ed una sola, ossia la mia fragranza molecolare preferita. Anche qui, se volete capire dalle note di cosa sappia in bocca al lupo, leggete che sta di Cetalox. Bene, e adesso che cos'è il Cetalox? Se uno cerca rapidamente non fa altro che confondersi. Da una parte c'è chi dice che è identico all'Ambroxan, però fra Notte e Superdose la differenza è evidente. Dall'altra c'è chi dice che ha la stessa composizione chimica dell'iso e super, quindi un sentore similegno di cedro con una nota più polverosa che potrebbe ricordare vagamente l'iris. Dalle brochure ufficiali di Juliette non si evince molto, però al naso la differenza è evidente. si parla di una fragranza overdose per il pubblico che non sente pienamente Notte Parfum. Si racconta di una fragranza che piacerà sicuramente agli amanti di Notte con la sua linea fresca, elegante, un sillage, una shea decisamente rafforzati. Però la verità è che dopo quasi due anni che ci lavoro con entrambi questi profumi posso dire che sono molto strani, molto diversi e che non è assolutamente così, anzi, di solito chi ama Notte Parfum bianco difficilmente apprezza e ama Superdose. C'è chi veniva da Aventus, chi ovviamente da Molecule 01 e chi invece dà una nota apparentemente più classica come il Super Sedar di Bairedo. Perché in fondo Superdose dà quella sensazione ambrata, legnosa, quasi minerale a tratti mi verrebbe da dire, che a differenza del fratello maggiore non ci coccola e non ci sta simpatica, ma aumenta la desiderabilità. Più che la delicata coccola trasparente e pudre del Notte Bianco sembra più un profumo per sedurre, molto più animalico, che quando lo si indossa si sa che la gente ci fermerà per strada. Non si sa cosa c'è dentro la boccetta, ma si sa che sarà una calamita per i complimenti. Personalmente questo lato più impattante cerco di nasconderlo quando indosso Superdose, stratificandolo con una nota più classica prima, Super Sedar per dirne uno, e una più frizzante aromatica sopra, ment fresh di Healy su tutti. ma nessuno vieta di docciarsi dentro Superdose e prepararsi letteralmente ad un bagno di folle di complimenti. Se questo video vi è piaciuto sapete già cosa fare. Il mio obiettivo con questo canale è creare una community di appassionati con cui condividere la mia malattia e la loro. E questo show è prima di tutto partecipazione, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di queste due fragranze. Noi ci vediamo al prossimo video.